Fin dalla notte dei tempi, gli antichi pensavano che l'eclissi totali fossero terribili presagi di disgrazia. Il buio che si impossessa del giorno, la vita sorpresa dalle tenebre, uno spaventoso drago che divora il sole e minaccia la terra. I più timorosi chiudevano porte e finestre e coprivano con grossi coperchi anche i puzzi, perché il male che trasudava dal cielo non infestasse le case e avvelenasse l'acqua. Oggi ci sarà un'eclissi di sole, ora stai ritornando a casa dove potrai goderti lo spettacolo, mentre tutti preparano macchine fotografiche e videocamere. Nessuno più crede nelle antiche superstizioni. Ma cos'è allora quella strana nebbia verde che galleggia sopra il giardino di casa? Grazie per la visione! Il grande Gagul ha preso possesso di questa casa. Tuo nonno è suo prigioniero. Avrà salva la vita solo se tu riuscirai ad esaudire tre suoi desideri prima che l'eclissi di sole sia conclusa. Troverai gli indizi nelle stanze. Cerca la civetta, lei saprà aiutarti. la vita solo se tu riuscirai ad esaudire tre suoi desideri prima che la e la vita solo se tu riuscirai ad esaudire tre suoi desideri prima che la e la vita solo se tu riuscirai ad esaudire tre suoi desideri prima che la Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.